salve mi chiamo paola sanna e vengo dall'italia vi racconterò un po la mia esperienza per il viaggio dei miei denti dunque inizio col dire che ho fatti vari preventivi in italia e che per il lavoro che dovevo fare era molto costoso a seguito di tutta questa cosa ho incontrato un' amica che già era venuta a tirana in questa clinica e mi disse che era una clinica seria dunque la contattai tramite facebook mi fu dato tutte le informazioni utile per poter arrivare qui dunque sono arrivata prima del convid dove mi hanno prelevato dall'aeroporto e mi hanno portato in un albergo completamente gratuito e alle loro spese sono venuti due ragazzi molto gentile mi hanno spiegato come andava e il lunedì ho iniziato subito le cure mi è stato fatto un preventivo anzi me ne sono stati fatti 23 e io ho scelto quello che più mi conveniva parlando prezzi i prezzi sono circa la metà e anche qualcosa in meno di quello che io avrei pagato in italia dunque fatto questo ho accettato il preventivo mi hanno spiegato che ci stavano due fasi dunque sono stata la prima volta dieci giorni dove mi hanno accolto in uno studio perfettamente pulito e perfettamente igienico con gente veramente professionale che cose che io non avevo visto nemmeno in italia e sono rimasta sorpresa dalla loro professionalità dunque mi sono affidata totalmente a loro e a seguito di dei dieci giorni trascorsi la prima volta qua sono ritornata in italia durante i sei sette mesi di attesa la mia bocca è guarita però è iniziata la pandemia dunque non sono potuta tornare come previsto dopo sei mesi ma sono tornata dopo otto mesi sono stata accolta sempre all'aeroporto le regole sanitaria per la pandemia sono state rispettate e direi anche di più e hanno iniziato immediatamente il lavoro per il quale dovevo per il quale sono venuta dunque sono passati in altri dieci giorni mi hanno terminato il lavoro sono stati carinissimi non ho avuto nessun tipo di problemi mastico bene esteticamente sono bellissimi dunque vi faccio vedere e spero di aver potuto aiutare tante persone che hanno bisogno di cure dentali arrivederci grazie 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 grazie